Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avrete letto da titolo e copertina e come state vedendo da questo strano arnese della morte e questo coltellaccio, oggi andremo a fare un video diverso. Ok, ma cosa vogliamo fare con questo coltello? La maggior parte di voi l'avrà già sicuramente capito. Io mi sto ispirando a un video, o meglio un paio di video, che ha fatto Surry. Non mi freno dal dirlo perché anzi è meglio dare crediti a chi ha ideato il contenuto, ma semplicemente per sfizio, perché lui è andato a utilizzare un coltello molto costoso e delle pietre apposite, abbastanza costose, per appunto affilare i coltelli. Io invece ho visto un po' che a casa appunto ho questo strumento per affilare i coltelli e questo è il coltello principale che utilizzo quando cucino, che è comunque molto buono, un coltello di Ikea, si può leggere qui, eccolo. E niente, quindi ho detto, ma proviamo anche noi. Quindi qui abbiamo un nostro bel foglio di carta, non l'ho mai fatto e sono curioso di farlo. Quindi andiamo a vedere un po'. Immaginavo, sarebbe stata questo. Come si mantiene il foglio? Non è facile. Vabbè ragazzi, come potete ben vedere, questo coltello è abbastanza inutile attualmente. È veramente... No, da lama non fa nulla. Quindi basta perdere tempo, andiamo ad affilarlo. Allora, io non so bene come funziona, non mi sono nemmeno voluto informare perché tanto non lo faccio di mestiere, quindi... Vabbè, comunque, l'unica cosa che possiamo vedere su questo strumento, non so se riesco, ok, ci sono dei numeri 1, 2 e 3. Quindi, probabilmente, anzi, quasi sicuramente è così, è l'ordine nel quale noi dovremo andare ad affilare la lama. Funziona inserendo semplicemente la lama e facendola scorrere su queste pietre. Ci proviamo? Ah, un'altra cosa. Io non so se queste pietre vanno bagnate o meno. L'ho sempre utilizzato... Ah, sì, io questo l'ho già utilizzato, l'ho già provato tanto tempo fa. Però l'ho sempre utilizzato senza bagnare né le pietre né la lama. Credo funzioni così. E il coltello viene affilato comunque, non ho mai provato a tagliare la carta o comunque verdure, la maggior parte, quindi... Comunque, vogliamo provare senza bagnarlo. Poi magari, se questo video vi dovesse piacere, proviamo a farlo con altri metodi oppure bagnandolo, semplicemente. Vediamo un po'. Iniziamo dalla parte numero 1. Manteniamo e affiliamo. Ok, allora, vado a prendere un attimo un po' di carta, perché qua ho visto comunque particelle, cose. Quindi vado a prendere un po' di carta per vedere se la lama è effettivamente sporca, perché si è sporca. E poi continuiamo. Ok, ho preso un tovagliolo. Andiamo, come potete vedere, è pulito. Andiamo a pulire la lama. Eh sì, come potete vedere, c'è della sporcizia dovuta appunto all'usura della lama. Perché comunque è esatto. Adesso si vede anche un po' più lucida, se magari mettessi a fuoco la lama e non me. Sono dettagli che non riesco a farvi vedere bene, però diciamo che io lo vedo, lo noto. Quindi, passiamo alla pietra numero 2. Io tra l'altro sono andato a sentimento, senza contare, senza tenere tempo di quanto l'ho fatto. Quindi, vediamo. Cosa è successo? Non lo so ragazzi, però ho come l'idea che sia veramente tanto affilato. Continuiamo un altro po'. Allora. Uh, aspettate un attimo. Prendo il mio carinissimo iPhone 12 Pro Max. E con questo proviamo a fare delle riprese macro per vedere se riesco a farvi vedere appunto tutto quello che sta accadendo. Ecco qui. Qua c'è tutta polvere della lama e secondo me, guarda, guarda quanta ce n'è, si sta consumando parecchio. Oh, guarda come riusciamo a fare dei bei dettagli così. Vedi qua c'è tutto, è anche magnetico perché, sì, è arrapato diciamo. Qui si può vedere la lama. Eccola, guarda quanto è consumata. Qua si riesce a vedere bene molto tutto il dettaglio. Perfetto. Mi fa piacere che in qualche modo sia riuscito a farvelo vedere. Adesso possiamo pulirla, come abbiamo fatto prima. Attenzione. A non tagliarci. Ok. Ragazzi, ovviamente è inutile dirvi che queste cose non dovete farle a casa. E guarda, tutta la polvere. Non dovete fare queste cose a casa e soprattutto fatevi aiutare da genitori, persone adulte e fatelo in maniera responsabile. Io comunque, sì, ok, non sto utilizzando guanti, non sono del mestiere e tutto, ma sto facendo parecchia attenzione e sto utilizzando attrezzi sicuri, diciamo, ok? Quindi non ci rimane altro che procedere con il terzo e ultimo livello. Proviamo. Ok, ovviamente si sta surriscaldando la telecamera. Grazie telecamera. Perfetto ragazzi, quindi attualmente la situazione è questa. Io direi che possiamo provare a prendere il nostro foglio di carta e vedere se siamo riusciti ad ottenere qualcosina. Vediamo un po'. Allora, il taglio c'è ed è abbastanza continuo. Non mi sembra un brutto taglio assolutamente. Quindi il coltello lo stiamo affilando. Perfetto. Ed è... Sono contento. Proviamo di nuovo. Ragazzi, vi giuro, io non sto applicando nessuna forza. Sto lasciando scorrere la lama anche perché pesa un bel po' questo coltello. Wow! Il taglio non è male, ragazzi. Nonostante la lama io non la veda. Mi sto accorgendo che si sta consumando davvero tanto perché vedete qui c'è una sorta di curva e che prima non c'era, era dritto. Quindi la lama la stiamo consumando veramente, veramente tanto. Ed è anche storto il filo. Sì, assolutamente storto. Non me ne intendo ma si vede. Quindi molto probabilmente questo coltello andrà cambiato. Però i risultati non sono assolutamente da buttare. Vabbè, non è affilatissimo. Non... Adesso è come se già avesse perso il filo, assurdo. Ah, guardate. Eh, vabbè. No, dai, dai, taglia. Taglia e anche molto bene. Guarda. Sì, decisamente. Allora, secondo me se continuassimo ad affilarlo in maniera un po' più delicata e continua, non solo dovremmo, guarda, non solo dovremmo riuscire ad avere la lama ancora più affilata, ma dovremmo cercare anche di pareggiarlo. Magari devo insistere un po' di più sulla parte centrale per rimuovere questa gobetta che si è venuta a formare. Vai. Sì, ragazzi, era come dicevo io. E adesso vi faccio vedere. Ok, adesso è sempre storta e si riesce a notare, ma molto, molto meno di prima. E, ragazzi, secondo me è ancora molto più affilata. Quindi prendiamo il foglio nuovo e proviamo. Ragazzi, questo è andando dietro. E guarda, il taglio, ve lo faccio vedere con l'iPhone. Guardate il taglio comunque come è preciso, cioè è netto, non ha avuto esitazioni. È un po' comunque sporchino, ma stiamo parlando sempre di un coltello economico di Ikea fatto non per tagliare la carta. Riproviamo scendendo verso il basso, quindi andando avanti. Ecco, qui il taglio è nettamente più sporco, però, voglio dire, non lo sto nemmeno impugnando come si deve, lo sto facendo scorrere. No, vabbè, ragazzi, è molto affilato. Potremmo fare una prova con qualche frutto. Adesso vediamo. Perfetto. Abbiamo reperito un pomodoro e un tagliere decisamente troppo grande per quello che dobbiamo fare, però va bene così. Perfetto, ragazzi, siamo pronti per andare a tagliare il nostro pomodoro. Quindi, vediamo un po' le nostre doti culinarie. Ah, ecco, qua così appoggiando la lama si riesce a vedere che è storta, però dovrebbe essere anche normale forse. Vediamo un po' cosa... Uh, è allucinante! Cioè, è accuratissima e sottile. Addirittura ha tolto la pelle. Bellissimo! Va bene, continuiamo. Vabbè, ragazzi, cioè, è affilato. Taglia. Taglia molto, molto bene. Allucinante! Possiamo fare la prova della caduta del pomodoro sul coltello. 3, 2, 1... No! Ma come no? Però il segno c'è. Quindi, forse ho sbagliato io. Non so, devo regolarmi con... No, ha schizzato solo tutto ovunque! Però un po' si è tagliato, dai. Se lo faccio scendere così... Ecco, così, ovviamente, c'è la polpa e si è azzippato. Perfetto, ragazzi. Quindi con il nostro bel pomodoro, che comunque viene tagliato senza difficoltà dal nostro coltello affilato, direi che è tutto. E sta gocciolando. Vabbè, basta. Ragazzi, per questo video è diverso dal solito, quindi è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Il nostro coltello è risultato decisamente affilato. Non perfetto. Stiamo parlando comunque di un coltello economico. Affilato in massimo 10 minuti con questo strumento di Ikea. Come potete vedere, è di Ikea. Come al solito, ragazzi, se il video dovesse esservi piaciuto, mi raccomando, è molto importante supportare me e il canale. Mi farebbe davvero molto piacere avere un vostro riscontro. Se proprio non volete lasciare il like, ma vi è piaciuto il video, lasciatemi un commento per farmelo sapere. Mi interessa davvero tanto e creare interazione tra noi, secondo me, è la cosa più bella. Quindi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!